Sì, non creo d'anni. Quello che è il mio compito quest'anno è quello di cercare di creare un feeling tra il Rotary e il Rotaract. Quello che vi dico, specialmente ai soci Rotaractiani, di essere più vicini ai vostri presidenti e di fare squadra e di sopportarvi ed aiutare i vostri presidenti padrini. Io ho chiesto più volte ai presidenti del Rotary di invitarvi alle riunioni di consiglio proprio per questa funzione, quella di unirvi perché la casa è comune. Quindi, diciamo, il fine è sempre quello, il servire sopra ogni non interesse, scusate, al fatto di creare nuovi ingressi, al fatto di creare service interessanti. E questo lo potrete fare avendo anche le disponibilità con il supporto del Rotary. Purtroppo so che voi non avete grandi disponibilità. E solo quello è il fatto di essere vicini a loro. Un'altra cosa che vi chiedo è di rispettare sempre le regole. Perché chi rispetta le regole non si trova mai dalla parte sbagliata. Quindi, questo è l'augurio che vi faccio. Di crescere, di essere rispettosi delle regole, di fare un bell'anno pieno di entusiasmo. E sappiate che ci sono io e quindi vi posso dare una mano in qualunque momento. E sono a vostra disposizione. Grazie.